Mike Pompeo, direttore della CIA e fresco nominato segretario di Stato americano, avrebbe segretamente visitato Pyongyang per preparare il terreno a un presunto incontro fra il leader nordcoreano Kim Jong-un e il presidente Donald Trump. La notizia del viaggio arriva attraverso la stampa americana dopo che la Casa Bianca ha parlato dell'esistenza di dialoghi al massimo livello fra la Corea del Nord e gli Stati Uniti, obiettivo proprio un incontro storico fra i presidenti dei due paesi. Lo stesso Trump è arrivato ad auspicare che il meeting si celebri in luglio o persino un po' prima.